Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video interattivo, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi andremo a fare il video che ha come titolo Quali meraviglie ti attendono? Allora, come ripetisco sempre, questi sono degli interattivi, non sono delle stese personali, perciò vi pregherei di non scrivermi dei commenti per dire voglio sapere di me. Non si può sapere di voi come persona singola da un interattivo, ma si può semplicemente, come dico sempre, prendere semplicemente quello che risuona con la vostra situazione, con la vostra persona e in base al settore dove voi volete agganciare o dove vedete che risuona meglio si può semplicemente prendere qualcosa che risuona con voi ma non sono stese personali fatte con nome e data di nascita per quello ci sono i consulti personali. Ripeto pure che il video è adatto a tutti coloro che lo stanno guardando sia uomini che donne ed è valido dal momento in cui viene visionato cioè è valido sempre dal momento in cui viene cliccato per essere visto e per il momento attuale, perciò non è una stesa personale è una stesa generale in base alla variante che voi scegliete e se magari volete ascoltare anche l'altra dovete semplicemente prendere quello che risuona con voi con la vostra situazione, con il vostro settore e lasciare andare il resto perché ciò che non risuona con voi risuonerà per qualcun altro andiamo adesso a vedere quali meraviglie ti attendono per chi sceglie la variante 1 che è contraddistinta con il gufetto viola o la variante 2 che è contraddistinta con il gufetto rosso gradisco anche i commenti che mi dicono che giustamente non risuona con niente perché non è detto che una stesa deve per forza risuonare con qualche settore o con qualche situazione della vostra vita ma non posso con una stesa generale sapervi dire a voi personalmente che cosa cambierà o cosa non cambierà perché non è fatta su di voi andiamo adesso a vedere cosa ci dice la variante numero 1 andiamo appunto con il gufetto viola allora vediamo subito cosa ci dice la stesa il successo dipende dalla gioia che provo quando sei entusiasmato dal successo di un'altra persona significa che sei sulla buona strada per ottenere il tuo il successo non dipende dal compimento la misura del successo nella vita non coincide con l'ottenimento di denaro o cose materiali la misura del successo corrisponde decisamente alla quantità di gioia che provi lascio andare tutte le critiche offro quello che desidero ricevere in cambio il mio amore e l'accettazione degli altri vengono ricambiati in molti modi questo lo faremo alla fine l'oracolo del consiglio lo terremo per ultimo allora come prima come prime battute per questo per questa stesa abbiamo già abbiamo già un bel trio abbiamo già un bel trio e qua c'è qualcuno che diciamo è sulla fase della decisione perché qui abbiamo la costanza abbiamo la nascita di un qualcosa che vi porterà allegria che vi porterà soddisfazioni e state pensando appunto che questa nuova situazione questa nuova persona che andrete a conoscere sarà come trovare un tesoro avete proprio la necessità di trovare qualcuno che vi faccia ridere che vi faccia sentire bene oppure state appunto pensando che la persona che avete appena incontrato la situazione che state vivendo in questo momento è la situazione che va a che fa al caso vostro appunto qua il successo dipende dalla gioia che provo più una situazione più una persona vi fa stare bene vi fa provate gioia più è quello il successo che voi andrete a ricevere è il successo che vi meritate e lasciate andare tutte le critiche cioè tutto ciò che viene attorniato da questa situazione tutte le critiche le invidie tutto quello che si contrappone alla felicità per questa nuova situazione o per questa nuova amicizia relazione chiamatela come volete che sta per nascere o è appena nata questo diciamo voi lo lasciate andare lo lasciate per quello che è ecco semplicemente una critica che non vi scalfisce state molto pensando a quello che sta succedendo in questo momento nella vostra vita perché avete una situazione che è appena nata o sta per nascere che vi porta molta allegria però di contro avete qui o una persona che si interfaccia in due modi diversi o potrebbe essere che ci sono appunto due persone distinte e separate fra le quali voi appunto state pensando chi scegliere e chi fare diciamo proprio nella vostra vita a chi dare diciamo la priorità andiamo a vedere cosa ci dice la nostra stesa prima di tutto voglio vedere cosa c'è proprio strettamente vicino a voi vediamo un po' certe volte cambio la metodologia della stesa e perciò ogni tanto mi confondo allora vediamo un po' cosa c'è vicino alla vostra persona allora appunto qui abbiamo più persone vicino a voi abbiamo più persone vicino a voi a voi e abbiamo appunto il messaggio abbiamo la lettera questo è un messaggio che arriva sotto qualsiasi forma che sia una novità o un messaggio una lettera un contratto un qualcosa che vi farà molto piacere un qualcosa che vi farà sentire di nuovo una forma di amicizia una forma di serenità una forma di tranquillità abbiamo più persone però in questa situazione che possono essere uomini o donne indipendentemente dalla figura che voi vedete vicino a voi abbiamo qui voi qui la persona appunto che c'è a fianco a voi e che si contraddistingue anche nella prima stesura di carte e abbiamo anche un'altra persona che appunto si fa vedere dall'altra parte come volevo come dicevo prima potrebbe essere una persona che si interfaccia in due modi diversi però qui mi chiarisce che sono appunto due persone distinte e separate o la persona che state conoscendo alle spalle una una storia con un'altra persona che sta per chiudere o che vuole chiudere voi diciamo siete in prossimità dell'arrivo nella sua vita oppure avete conosciuto una persona che è impegnata o pensate sia impegnata diciamo che qua nasce prima di tutto sta nascendo un qualcosa scusate nasce un qualcosa a livello di amicizia una novità un qualcuno che arriva al livello più che altro all'inizio come amico è nato come amico sta nascendo come amico però c'è appunto un rimuginare un pensare a questa persona adesso in modo un pochettino più approfondito adesso andiamo a vedere appunto con la nostra stesa è quello che mi viene da dire nelle carte è che appunto questa persona vi fa stare bene i suoi comportamenti i suoi modi di fare il il suo modo di essere a voi fa stare veramente bene tutto questo benessere che che trovate poi lo lo reputate e lo riscoprite come appunto aver trovato un tesoro aver trovato il vostro successo allora vedo però che c'è un momentino di freddezza un momentino di freddezza forse avete avuto qualche screzio avete avuto qualche screzio e c'è stato un momentino forse un pochettino di allontanamento questo allontanamento sta facendo cambiare qualcosa in voi è come se avete provato una una piccola una piccola delusione una piccola delusione che vi sta facendo aspettare prima di proporvi in modo definitivo ecco perché c'è una titubanza e c'è il pensare perché si è vero che la persona vi fa stare bene però c'è un pochettino di freddezza in questo momento da parte vostra perché c'è stato un piccolo diverbio che ha fatto cambiare ha fatto scattare qualcosa in voi e in questo momento vi sentite un pochettino in una fase che provate delusione in questo momento diciamo state provando una forma di è come se come dire siete in forma di attesa state attendendo e state guardando bene la situazione come se lo stesse spiando però diciamo che più un guardare un capire come controllarvi diciamo che a voi a lui avete fatto capire che c'è proprio una vera e propria chiusura è una vera e propria chiusura perché qui diciamo volete aspettare volete aspettare avete questa sensazione di chiuderla avete questa sensazione di chiusura e questa forma di pazienza cioè voi ancora volete aspettare volete pazientare prima di abbandonare di chiudere completamente c'è qualcosa che vi fa paura in questa delusione che avete che avete vissuto avete paura di qualcosa nel futuro avete paura di un futuro che vi possa creare delle illusioni però nel contempo non volete avere il rimorso di non averne anche provato a diciamo instaurare un qualcosa di molto più impegnativo di molto più vero c'è entusiasmo c'è entusiasmo e resistenza c'è una situazione un pochettino contrapposta in questa vostra situazione perché avete intrapreso bene questa nuova conoscenza questa nuova situazione c'è stato un freno perché è successo un qualcosa che vi ha un pochettino raffreddato e vi sta facendo riflettere avete paura di andare avanti di provare delle delusioni e la avete la paura della del futuro che questo futuro sia semplicemente un'illusione però nel contempo non volete provare il rimorso per un entusiasmo per la nascita di un qualcosa che vi ha entusiasmato e perciò state cercando di resistere resistere appunto alla al desiderio e a quella forma di di messa in opera del vostro carattere che quando vedete che c'è qualcosa che non va la chiudete senza senza dare una seconda possibilità siete abbastanza combattute vediamo la forza infatti infatti ci vuole forza ci vuole forza per continuare questo rapporto questa situazione per continuare questo lavoro dovete trovare la forza dentro di voi perché voi sapete di poter raggiungere delle delle situazioni abbastanza gratificanti perché voi sapete che se ci lavorate in modo molto più appropiato in modo molto più intenso sicuramente riuscirete a trovare una un'armonia una soddisfazione però avete anche questa questa forma di presa atto che c'è un qualcosa che non vi quadra e perciò state cercando in voi tutta la forza possibile e immaginabile per andare avanti infatti qui abbiamo la carta che ci porta a pensare che ci vuole un pochettino più di esperienza che ci vuole un pochettino più di conoscenza per cercare di intraprendere qualcosa di nuovo e non buttarvi come se fosse un'avventura come se fossero le prime avventure adolescenziali che una si butta senza pensarci qui siccome alle spalle abbiamo un'esperienza abbiamo un sapere che vogliamo mettere in atto appunto per non sbagliare di nuovo ecco che qui c'è quella voglia di intraprendere la situazione o la storia in modo molto e come dire in modo molto spensierato come appunto si fa nelle nelle situazioni adolescenziali però nel contempo abbiamo bisogno di parecchia esperienza e l'esperienza abbiamo bisogno di esperienza con questa persona e nel contempo l'esperienza che noi abbiamo alle nostre spalle ci fa da scudo per non provare le stesse delusioni e lo stesso diciamo lo stesso dolore la stessa sofferenza ed ecco che qui abbiamo la decisione da intraprendere siete una donna che vedete qui le carte guardate regina di coppe 5 di pentacoli e reddico questo che cosa significa che voi avete voglia di avete la voglia di ricominciare avete la voglia di iniziare un qualcosa però è anche vero che avete bisogno di aiuto avete bisogno di non avere quella sensazione di povertà di non vi volete sentire dire determinate cose e poi stare male perché qui abbiamo due persone che insieme potrebbero fare tanto però c'è un qualcosa di mezzo che diciamo un pochettino le le divide le divide perché Soprattutto voi avete un bagaglio alle spalle che già diciamo vi ha stroncato abbastanza e vi ha fatto diventare quella che siete è logico che in questo momento vi trovate in difficoltà vi trovate in difficoltà e siete diciamo precari di idea perché c'è un'attrazione fisica però di fondo voi volete anche altro andiamo a vedere l'oracolo del consiglio cosa ci dice perché continui rilassati calma i tuoi pensieri allora perché continui nel senso perché continui a vedere sempre la parte negativa perché continui a vedere sempre magari qualcosa che esiste solo nella tua mente appunto ti dice di calmare i tuoi pensieri negativi e di rilassarti nel senso di goderti quello che ti viene e se poi veramente c'è qualcosa che non va però a livello oggettivo a livello proprio concreto vedi che c'è qualcosa che non va e allora la stroncherai lì però nel momento in cui tu è soltanto una sensazione soltanto un pensiero e la persona si comporta in modo impeccabile non vedo perché tu debba rimuginare sempre su un qualcosa che è stato con altri ma non è un qualcosa che è stato con questa persona che stai per conoscere o che hai appena conosciuto perciò rilassiamoci cerchiamo di vedere obiettivamente quello che è la realtà e non quello che è il passato e perciò cerchiamo di goderci attimo per attimo quello che viene prendiamoci quello che ci fa stare bene e analizziamo quello che diciamo ci fa stare un pochino in dubbio e così troverete anche voi queste meraviglie che vi attendono perché io vedo che quando mi escono queste due carte voglio dire io penso che siete una coppia che potrebbe che potrebbe andare o una situazione che potrebbe fare al caso vostro bene prima variante questa è la vostra stesa se vi riconoscete se incastra con la vostra vita o la vostra situazione vi aspetto come sempre nei commenti e passiamo alla variante 2 eccoci alla variante 2 per chi ha scelto il gufetto rosso allora per il mio corpo è naturale stare bene non devi fare pensieri positivi specifici relativi al tuo corpo ma devi non fare pensieri negativi specifici relativi a esso se potessi smettere di pensare al tuo corpo e invece facessi soltanto pensieri piacevoli il tuo corpo rivendicherebbe il suo naturale stato di benessere sono disposto a perdonare perdonare me stesso e gli altri mi libera dal passato il perdono è la risposta a quasi tutti i problemi il perdono è un regalo che faccio a me stesso perdono e mi libero anche qui abbiamo un bel pensatore una persona che ha molta immaginazione tenta sempre di scambiare le proprie opinioni le proprie idee il proprio tutto con altri abbiamo qua un bel pensatore con l'immaginazione molto molto fervida appunto molto fervida che diciamo si fa anche prendere dai pettegolezzi si fa anche prendere dai pettegolezzi e trova una sorta di consolazione nel suo modo di fare nel suo modo di pensare abbiamo qui come potete vedere un qualcuno che potrebbe potrebbe dico e ripeto potrebbe potrebbe essere già impegnato e avere buttato gli occhi su un qualcuno di un pochino più giovane un pochino più fresco chiamiamolo così ecco che l'immaginazione galoppa ecco qui pensieri positivi e negativi sul proprio corpo perché come vedete dalle immagini questa è la diciamo donna ufficiale persona ufficiale o situazione ufficiale e lui sta buttando un occhio su un qualcosa di più fresco di nuovo di appena arrivato nella propria vita o appena conosciuto automaticamente si perdona per ciò che pensa e ciò che vorrebbe fare e vorrebbe scambiare con questa nuova fase della sua vita questa nuova persona vorrebbe scambiare qualcosa diciamo qualcosa a livello magari anche di all'inizio di parlare di conoscenza però c'è appunto questa questa situazione ci sono anche dei pettegolezzi già in giro su di lui o su di lei che sia e questa è una consolazione perché diciamo la sua consolazione appunto ancora essere diciamo un po appetibile per qualcuno di più giovane di lui o di lei andiamo un attimo a vedere cosa c'è vicino alla vostra persona vediamo vediamo un po anche qui abbastanza distante dal punto è allora qui c'è una situazione che si potrebbe chiudere o si è chiusa si è chiusa in malo modo direi pure si è chiusa in malo modo e vi ha portato per tanto tempo a privarvi quindi allora questa potrebbe essere anche una situazione che c'è stata o che ci è appena stata o che ci sarà cioè qui abbiamo appunto un pensiero o effettivamente una chiusura in malo modo con un qualcosa che voi avete vissuto perché perché per tanto tempo poi vi siete privati di qualcosa vi siete privati di emozioni sentimenti realizzazione di desideri lavori vi siete privati ma adesso è arrivato il momento di non privarsi più al di là che ci sono pettegolezze al di là che ci sono determinate cose il vostro pensiero è che se vi capita una situazione voi ve la andrete a godere al di là di quello che dicono di voi o di quello che pensano di voi diciamo che fondamentalmente è un pensiero giusto perché non possiamo sempre farci condizionare da quello che dicono le persone però dobbiamo anche vedere chi sono i protagonisti di questa chiusura se soffrono se non soffrono armonia voi pensate sempre alla vostra armonia nel senso poi rischiate tutto per tutto pur di stare bene voi stessi al di là dell'invidia del conflitto abbiamo qui però una bella indecisione abbiamo un susseguirsi di situazioni un po' altalenanti voi avete bisogno di armonia mettete a rischio tutto c'è molta invidia intorno a voi e c'è questo conflitto dentro di voi e questa paura per una forma di indecisione che avete questa indecisione è dettata dal non sapere cosa decidere o cosa fare cosa succede qui allora c'è curiosità per questa nuova situazione che vi porta già armonia vi porta già il sentore che è qualcosa di bello e qualcosa di importante avete già una forma di attaccamento etereo attaccamento platonico ecco non mi veniva la parola vedete siete attaccati però a qualcosa che diciamo fondamentalmente non esiste e sapete che è un rischio perché l'invidia potrebbe allontanarvi da quello che è il vostro obiettivo ci sono c'è ci sono dei messaggi che vi mettono in conflitto messaggi non solo messaggi a livello di cellulare a livello verbale ma ci sono anche dei messaggi diciamo ambientali che voi mandate e ricevete che vi mettono in conflitto e avete questa indecisione però questa indecisione vi farà vi farà architettare una strategia questa strategia che di fondo voi avete paura di attuarla però la verità è che voi la attuerete la tua rete con delle bugie mettendo in atto tutto il vostro charme tutta la vostra seduzione perché volete realmente fare chiarezza su quello che sono le probabilità che avete con questa situazione o con questa nuova conoscenza spero di essere stata abbastanza chiara perché qua c'è qualcosa che bolle in pentola qualcosa che voi già sapete che vi farebbe stare molto molto bene però sapete anche che c'è del rischio ecco qua vedete la scelta la vedete la scelta qui voi andrete a scegliere con i sentimenti non andrete a scegliere con la ragione ma andrete a scegliere con i sentimenti in base a quello che realmente sentite e vi fa provare anche a discapito di qualcuno cioè anche anche se in questo momento vi sentite un pochettino con le mani legate però vi sentite un pochettino con le mani legate però avete proprio in mente di attuare un una forma di successo in base alle vostre azioni e avere diciamo anche se dovesse essere qualcosa di superficiale anche se dovesse se dovesse essere qualcosa di breve ma voi lo volete vivere voi lo volete vivere intensamente e quello che diciamo si contrappone a questa vostra voglia è appunto dover fare una scelta perché voi sicuramente in questo momento vi sentire bloccato perché dovete scegliere come muovervi e come agire avete anche a disposizione un qualcosa una forza un'energia abbastanza positiva che diciamo elimina un pochino questa forma di insoddisfazione e di pensiero negativo nel non riuscire perché ogni tanto voi pensate al fatto di riuscire o di non riuscire e perciò questo vi porta un pochettino in conflitto però questo conflitto voi nel momento ad esempio che voi andate a guardarvi allo specchio scompare perché vedete dentro di voi una forza un'energia con la quale voi volete provare e appunto abbiamo il il cavaliere di pentacoli il cavaliere di pentacoli è quel cavaliere che fa muovere la situazione però qui di fondo ragazze mie e ragazzi miei qua di fondo io sentimenti non ne vedo qui vedo semplicemente un'opportunità che voi volete cogliere una situazione che voi volete godervi un'armonia infatti mi parla di armonia non mi parla di sentimenti un'armonia che volete provare a diciamo assaporare però di fondo come sentimenti non c'è niente volete fare diciamo toccata e fuga ecco perché la vostra immaginazione galoppa volete scambiarvi qualche cosa e poi diciamo di leguarvi o potrebbe essere anche che il sentimento possa nascere dopo questo le carte non me lo dicono vediamo cosa ci dice l'oracolo l'oracolo vi dice di agire agisci riordina dimentica perciò le carte che cosa vi dicono vi dicono di agire nel modo in cui voi te ne ritenete è più opportuno riordinare quantomeno le idee cercare di capire realmente se è quello che volete se ne vale realmente la pena e se è giusto che voi lo facciate e poi andate a dimenticare il tutto perché non è una situazione che può andare avanti nel tempo è una situazione quantomeno occasionale perciò cercate di agire nel modo più agire nel nella situazione di vedere realmente se ne vale se ne vale la pena riordinare quello che è il vostro pensiero e poi di conseguenza dimenticare tutto e tornare alla vostra vita normale e magari aspettando qualcosa di più concreto e di più fattivo anche a livello vostro di sentimento e di volontà bene seconda variante questa è la vostra stesa se vi riconoscete e vi fa piacere scrivetemi un commento io vi ringrazio per tutti coloro che si iscrivono al mio canale e mi lasciano un like continuate a scrivervi e se vi fa piacere spolliciate vi ricordo che per i consulti personali l'indirizzo lo trovate giù nelle info io vi ringrazio vi saluto e ci vediamo alla prossima